L'accesso alla conoscenza è un diritto che nessuno si deve sentire mai negato. Nell'aeroporto di Bologna c'era una Lamborghini lì in esposizione, non è stato possibile toccarla. Ci sono rimasto molto male perché questi sono i miei occhi. È pazzesco, sembra uno specchio. Per me è un'emozione molto forte che non riesco ad esprimere. L'esperienza di oggi per me significa tantissimo. Un'apertura alla sensibilizzazione e a mettersi anche nei panni di chi ha un altro metodo per poter conoscere. Oggi le mie mani hanno ascoltato un canto senza tempo. Oggi le mie mani hanno ascoltato un canto senza tempo.